La Regione con l'approvazione di questa nuova legge urbanistica ha fatto degli annunci che non corrispondono alla verità, ha annunciato che con questa legge si blocca il consumo di suolo e che ci sarà una vita più semplice, cioè procedure più o meno complicate per i cittadini, le imprese e i professionisti. Tutto questo dal nostro punto di vista non è vero perché invece questa norma basta pensare a quello che era il vecchio piano casa, un'autorizzazione che consentiva ampliamenti, compresi fino al massimo del 20-40%, consentiva la riqualificazione energetica, la messa a norma sismica, tutto questo dal 1 gennaio non sarà più possibile, quindi il piano casa nella Regione Marche dal 1 gennaio non si sarà più. hanno deciso di fare una nuova norma in dergua che consente ampliamenti fino al 20%, ma in realtà anche questi ampliamenti fino al 20% sono praticamente difficili da attuare. Ricordo che sarà possibile per ogni richiesta un voto del Consiglio Comunale, bisogna dichiarare la pubblica udività, ci vorrà un parere per tutti quegli ampliamenti che superano i 30 metri quadri della Commissione Paisaggio e addirittura ci vorrà un accordo tra Regione e Ministero della Cultura per individuare in particolar modo nelle zone B, ma anche in tutto il resto della città, ad esclusione dei centri storici, per individuare quei fabbricati dove sarà possibile applicare questa variante che consente ampliamenti massimi fino al 20%. In questi giorni, in questi ultimi mesi c'è stata la corsa da parte di molti per presentare la propria pratica, secondo me hanno fatto bene perché molte delle cose che erano possibili fino al 31 dicembre, dal 1 gennaio non saranno più attuabili. Siamo rimasti 5 giorni in Consiglio regionale proprio per i 400 emendamenti, quasi 400, che abbiamo presentato noi dell'opposizione a questa legge sull'urbanistica. Non era mai successo nella storia della Regione, ma la maggioranza di acquaroli li ha voluti comunque bocciare. E quindi ci ritroviamo ora con una legge che quando entrerà in vigore, spero il più tardi possibile, paralizzerà tutto il comparto dell'edilizia e creerà gravi problemi e intasamenti agli uffici dei comuni e ai cittadini stessi. Faccio un esempio banale che riguarda ad esempio la città di Pesaro, la città capoluogo. Se nelle zone cosiddette B, ad esempio Loreto, Muraglia o tutte le periferie, il proprietario ad esempio di una villetta a Loreto vuole fare il secondo bagno, oggi come oggi è sufficiente che il suo tecnico mandi la richiesta al comune e gli uffici tecnici del comune autorizzano meno. Quando questa legge entrerà in vigore invece, questa autorizzazione dovrà essere votata da tutto il Consiglio Comunale, quindi da alcuni politici che magari non sanno nulla di urbanistica. Pensiamo cosa possa significare questo iter burocratico per la richiesta, per arrivare alla calendarizzazione, al voto e come votano i consiglieri comunali in base a una fantomatica pubblica utilità. Un concetto assurdo, inconcepibile e io temo che questo possa dar adito poi anche a una serie di problemi legati a interessi personali o quant'altro, perché poi sarà impossibile chiedere una qualunque modifica all'interno della propria abitazione. Ecco perché credo sia una legge davvero scelerata.